Ciao ragazzi, in questa puntata invernale vi elencherò le specie ittiche nell'acqua dolce e acqua sermastra. Nella fase invernale siamo un po' fermi, adesso devo organizzarmi per fare trotto a spinning o a mosca in laghetto, aspettando che arrivi la bella stagione per andare a insediare i cipirini di un tipo di pesca. E ragazzi, questo mega poster mi è stato donato dalla regione Emilia Romagna, pesci d'acqua dolce e salmastra. Allora le cominciamo a elencare, classicissima trotta fario, si vede i pigmenti particolari di questo pesce, si passa alla trotta erridea, ovviamente i puntini non ci sono e ha una gobbia più accentuata davanti, salmerino, il mitico temolo, il grande predatore, il Luzio, che mi ha fatto danare anche col barchino, se andate a vedere i video precedenti. Abbiamo la bottatrice, mai vista e mai pescata. Questo invece l'ho preso, Luzio perca, pesce persico, un classico, persico sole o a Bologna è chiamato anche rosetta, uno dei pesci veramente, veramente belli anche d'acquario. Poco conosciuto, ma ad una livrea pazzesca, tranquillamente dà dei metri anche a dei cicli africani. Abbiamo il persico trotta, bel dotatore, pesce gatto nostrano, ecco, anche già questo è difficile trovarlo in giro, però qualcosa ho preso. Abbiamo il pesce gatto americano, importato, questo se ne prendono la valanghe, il contrastato immutato siluro, odiato e amato allo stesso tempo. Diversi pescatori lo odiano, qualcuno lo difende, bah, saremo a vedere anche in futuro. Comunque quando agganci uno sviglio da 100 kg, è una bella battaglia per un pescatore. ghiosso, mai visto, gambusia, adatto anche per l'acquario, è stato importato in Italia perché è veramente un mangia zanzare pazzesco. Assomiglia un po' a un guppi, però meno colorato e resistente all'acqua fredda. Goppione, Sanguinerola, Spinarello, mai visto. Cobite, sì, il Cobite l'ho visto quando lo Zene e l'Idice aveva ancora l'acqua pulita, li avevo beccati spesso e volentieri, ma adesso non ne vedo più. Il mitico Scazzone, qua andiamo avanti, l'ho visto un paio di volte, è pescato al Lago dei Castori all'inizio, poi ciò passiamo di 30-40 anni fa, ora l'acqua è talmente non pulita che non so se esiste ancora. Barbo comune, visto e preso, canino pure. Barbo spagnolo, questa è una brutta bestia, il mitico Cavedano, sa che ci ha salvato dai mensi cappotti, è sempre lui, Bairone, sì, visto. La carpa nuda, o cuoio, carpa regina, la mitica tinta, tinca, una regina. Savetta, Lasca, carpa specchi, mitico, carpa irvivora o amur, carpa argentato, tostolobico, temolo russo, qua è venuto veramente male, mi avevamo preso una vannotto, boh, perché è strana. Carassio, questo qua se lo fa parecchi garisti, carassio dorato, avevo detto pesce rosso, però l'hanno chiamato così. Scardola, Scardola, Garden, Pigo, Triotto, Rovella, alborella, mitica. Rodeo, mai visto, se lo ho pescato non me ne sono mai accorto. Pseudo rosbara, anche questo è un discreto magia gianzare. Abramide, Aspio, bello cattivo. Il Branzino, Lampedusa, mai presa. Cheppia, sì, cheppia è mitica, la risalita al Canal Bianco. Cheppia e Anguilla e Storione sono praticamente credo che sia gli unici tre pesci che risalgono le nostre acque per riprodursi come il classico salmone. Cefalo, Orata, Latterino, mai visto. Nono, mai visto. E' il mitico Paganello. Vi ricordo ancora Porto Corsini, ne tiravo su talmente tanti, con delle fritture la sera, troppo buone. Poi sotto ci sono due o tre pezzi giganti. Che era la mia carriera da pescatore, ho ingangiato. Ok ragazzi, questa carellata di tutti i pesci d'acqua dolce e salmastra che girano per le acque italiane. Mi sembra di essere un po' un maestro adesso. Cliccate mi piace, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sulle unità di full-tumber pesca. Grazie, ciao.